Il mercoledì appena trascorso ha delineato la situazione d'alta classifica a quattro gare dal termine. Alle calcagna del Taranto resta il solo Picerno, che complice il successo sulla Puteolana con il punteggio di 3-0, si porta a tre lunghezze di distacco dai rossobluionici. La truppa lucana sorride anche per quanto deciso dalla giustizia sportiva, rigettato infatti il ricorso del Lavello. La larghezza del Mancinelli di Tito è stata ritenuta regolare e al Dipartimento Giudiziario non è mai giunta comunicazione di revoca dell'omologazione dello stadio, che per larghi tratti della stagione è stata la dimora dei rossoblu di Palo. Sul fronte campo il Taranto è concentrato sulla gara in programma domenica contro la team Altamura, a disposizione di la terza Capitan Marsili, rientrante dal turno di stop. Manoli Infortunati, Falcone e Guastamacchia, per loro stagione finita, e lo squalificato Nicola Srizzo, quest'ultimo appiedato per una giornata. Inibito fino al prossimo 2 giugno, infine, il DS Francesco Monterbino.